Tutto trama contro di noi! No, non è l'inizio di una crisi persecutoria, bensì un banale dato di fatto, perché quest'oggi mi ero ritagliato uno spazio piuttosto importante, perché volevo portarti un argomento molto interessante, ma alquanto impegnativo, ma puntualmente mi è arrivata la telefonata di un cliente che mi ha chiamato per un'urgenza e quindi lo spazio si è ridotto. In questo caso sono ricorso immediatamente al piano di emergenza e quindi ti porto un altro contenuto più breve, più facile da trattare, ma non per questo meno interessante e siccome le sfortune non arrivano mai sole, dobbiamo far fronte anche ad una situazione che già conosci molto probabilmente, ovvero quella del nostro canale principale, che come sai è stato sospeso per una settimana, io spero a partire da domenica di poter riprendere le pubblicazioni su Gentiluomo Digitale, ma per il momento ci tocca rimanere sul lato oscuro e qui entri in gioco proprio tu mio caro gent, perché è importantissimo, e lo sai che non lo dico mai, essere iscritti ad entrambi i canali e quindi Gentiluomo Digitale da una parte e il lato oscuro dall'altro nel caso in cui il destino voglia con i suoi strali avversi farci qualche altro dispettuccio dei suoi. Non sono gli unici strumenti, mezzi di comunicazione che abbiamo, tutti gli altri come Instagram, la chat, il forum, che sono utilissimi per diverse ragioni, te li lascio linkati qui in basso, ma adesso andiamo a bombazza sull'argomento del giorno e quindi lascia che ti presenti questo programma molto ma molto interessante e se ti senti pronto, iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va! Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di un programmino interessantissimo che si chiama Sync Folders. Ce l'ha fatto conoscere un membro della community che risponde al nome di Giuseppe Garzia che in questo commento qui ci ha chiesto se volevamo testarlo e presentarlo. Come no Giuseppe, ho approfittato in questi giorni per testarlo un po' a sprazzi, devo dire la verità, ma appena si è verificata l'occasione per via di questo spazietto che ci si è liberato, eccomi qui, come vedi, a presentarlo. Che cosa fa questo programma? Si occupa di sincronizzazione, si occupa di backup e si occupa di copia dei file, ma tutto questo in una maniera estremamente semplice, intuitiva e soprattutto efficacissima. E allora andiamo a vederlo. Come al solito, come prima cosa, andiamo a procurarci il nostro materiale e lo facciamo aprendo il browser e nel motore di ricerca digitando, come sempre, Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al nostro sito, sul dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per andare ad aprirlo e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto e apriremo questa sezione qui che si chiama Downloads. Scenderemo un pochino più in basso nella pagina che si apre fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama per l'appunto Sync Folders. Potremo scaricarlo facendo clic sul grosso pulsante azzurro File Download, ma nel caso in cui per qualsiasi motivo non dovessi riuscire a trovarlo, niente paura, perché potrei andare qui in alto sulla lente di ricerca, cliccarci su e nella casella che si aprirà digitare per l'appunto sempre Sync Folders. effettua la tua ricerca e vedrai che immediatamente ti comparirà il risultato relativo. Fai un clic per andare a scaricare il file che è molto piccolo e molto veloce come sempre, dopodiché potrai cliccare su quest'icona qui per aprire la cartella che contiene il nostro download e potrai anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Per procedere con l'installazione di questo programma faremo doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama syncfolderssetup.zip e nuovamente doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa che si chiama setup.exe. Aspettiamo qualche secondo che si avvii l'installazione, clicchiamo sul pulsante Esegui per confermare di voler installare questo programma e confermiamo anche con il pulsante Sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo. Scegliamo la lingua che preferiamo qui dal menu a tendina, naturalmente io lascio l'italiano e clicchiamo sul pulsante OK. In questa finestra clicchiamo sul pulsante Avanti, accettiamo i termini del contratto di licenza cliccando su questa voce qui e clicchiamo nuovamente sul pulsante Avanti. Nella finestra successiva lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo ancora sul pulsante Avanti. Lasciamo anche in questa finestra tutto quanto così com'è, clicchiamo su Avanti e lasciamo spuntata questa voce, quella che si chiama Crea un'icona sul desktop. A questo punto siamo pronti per l'installazione del nostro programma che partirà cliccando sul pulsante Avanti e successivamente sul pulsante Installa. Ed ecco fatto, il nostro programma è stato installato, un'icona è stata creata sul nostro desktop e a questo punto potremo tenere spuntata questa voce qui, quella che si chiama Avvia Sync Folders e cliccare sul pulsante Fine per lanciare il nostro software. Portiamolo un po' più al centro in modo da vederlo meglio e chiudiamo la cartella compressa nella cartella Download che non ci serve più. La prima cosa che vorrei fare per utilizzare questo programma sarà creare una nuova regola. Possiamo farlo facendo clic su questo pulsantino qui che si chiama appunto Crea Regola che una volta cliccato ti farà comparire questa finestra. In questa finestra abbiamo una cartella sorgente ed una cartella di destinazione. La cartella sorgente sarà quella in cui si trovano tutti i file che vogliamo copiare, backupare o sincronizzare, come vedremo tra un attimo, queste operazioni sono differenti e la cartella di destinazione sarà una cartella in cui questi file andranno a finire. Come cartella sorgente andiamo ad effettuare una scelta e lo facciamo cliccando su questa voce qui. Supponiamo di volerla sincronizzare la nostra cartella Immagini, quindi la selezioniamo e clicchiamo sul pulsante OK. Ti mostro il contenuto della mia cartella Immagini che contiene tre sottocartelle e due file che ho creato appunto per questa esigenza. Andiamo a scegliere la nostra cartella di destinazione ma decido in questo caso di utilizzare una cartella nuova. La vado a creare sul mio desktop, clicco con il pulsante destro, scelgo la voce nuovo e poi cartella e chiamo questa cartella per l'appunto destinazione. Ora che l'abbiamo creata clicchiamo allo stesso modo su cartella di destinazione, ci portiamo sul nostro desktop e andiamo ad individuarla. Ci clicchiamo su e clicchiamo sul pulsante OK. A questo punto abbiamo tre possibilità. Possiamo effettuare una copia banalissima dei file che partiranno dalla mia cartella Immagini e andranno a finire sulla cartella di destinazione. Oppure possiamo effettuare un backup, vedi qui nella descrizione che questa opzione serve a creare un backup della cartella sorgente per cui i file nuovi e modificati nella cartella sorgente verranno copiati nella cartella di destinazione o altrimenti potremo effettuare una sincronizzazione bidirezionale per cui i file presenti nella cartella di origine, nella cartella sorgente, verranno portati nella cartella di destinazione ma anche il contrario e quindi se creiamo un nuovo file nella cartella di destinazione questo verrà portato anche nella cartella di origine. L'ho spiegato in maniera estremamente complicata ma come vedrai in realtà è infinitamente più semplice utilizzarlo. Come vedi ci sono un'altra serie di schede che non ti sto ad illustrare e servono a coprire esigenze specifiche. Nel caso tu vai ad esplorarne tutto quanto il contenuto e vedrai se ci sono delle voci che ti possono interessare. Sono tutte quante estremamente intuitive. Ora che abbiamo creato la nostra regola clicchiamo sul pulsante ok e vedrai che la tua regola comparirà all'interno di questa finestra. Per effettuare la nostra sincronizzazione dalla cartella immagini che come vedi contiene tre sottocartelle e due file alla nostra cartella di destinazione che è completamente vuota quello che dovremo fare sarà semplicemente un clic sul pulsante sincronizza e confermare con il pulsante sì di voler effettuare questa sincronizzazione. Come vedi sono stati sincronizzati i nostri due file e le nostre tre cartelle. Se apriamo la cartella di destinazione al suo interno troveremo questi file sincronizzati più un file syncfolders che viene creato automaticamente da questo programma ma naturalmente non è tutto qui. Se infatti torniamo sulla nostra sezione regole vediamo che qui in alto c'è un pulsantino davvero preziosissimo che ci consente di creare semplicissimamente una attività pianificata ovvero di far funzionare questo programma automaticamente ogni volta che avviamo il computer oppure quando decideremo noi in modo da effettuare queste operazioni in maniera assolutamente automatica. Per utilizzarla tuttavia dovremo prima salvare le nostre regole. Possiamo farlo con questo pulsantino qui quello che si chiama salva regole attribuire un nome alla nostra regola io la chiamo regola con poca fantasia e cliccare sul pulsante salva. Di default le regole vengono salvate in documenti. Ora che abbiamo salvato la nostra regola potremo cliccare su questo pulsantino e come vedi si aprirà una finestra come questa. Nella voce trigger potremo scegliere quando vogliamo che venga effettuata e quindi all'accesso ovvero quando accendiamo il computer una volta al giorno una volta alla settimana oppure ogni quante volte vogliamo che questa venga ripetuta mentre noi lavoriamo sul nostro pc. Io scelgo di lanciare questa regola all'accesso del computer. Come vedi ci viene confermato che è stata creata una pianificazione per questa regola e cliccheremo quindi sul pulsante ok. A questo punto facciamo una prova del 9 andiamo sulla nostra cartella immagini ed oltre al file pippo andiamo ad aggiungere un nuovo file che chiameremo Pluto. Ok naturalmente questo file manca al momento nella cartella di destinazione. Ora chiudiamo tutto quanto andiamo a riavviare semplicemente il nostro pc e vediamo se al riavvio questo file verrà creato automaticamente o meno. ebbene sì come vedi le operazioni sono state compiute in maniera assolutamente automatica e se andiamo ad aprire la nostra cartella di destinazione ci accorgiamo che al suo interno è stato aggiunto anche il file Pluto che avevamo appena creato nella cartella di origine e questo in maniera completamente automatica. Insomma bello facile e comodo. E siccome come al solito sono riuscito a sforare i tempi e adesso mi tocca correre dal mio cliente passiamo ai ringraziamenti del giorno che ancora una volta e finché non sarà ristabilito l'ordine costituito sul nostro canale principale sono rivolti tutti quanti solo e integralmente a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Mi raccomando iscriviti. Ciao